pochi istanti ancora e vedrete il nostro ospite che vi ho preannunciato più volte del resto i temi francescani sono particolarmente graditi all'interno del nostro programma e così gli ospiti che ci permettono di approfondire alcuni aspetti in queste settimane e in questi anni così decisivi con papa francesco che ha comunque rilanciato appunto tutti coloro che sono seguaci di san francesco da presso ed è così che voglio salutare ettore colli vignarelli che è il direttore di francesco il volto secolare e che ci parla immediatamente buongiorno a lei della giornata nazionale delle comunicazioni sociali vado veloce perché dobbiamo parlare di tante cose buongiorno direttore buongiorno a tutti voi buongiorno agli ascoltatori ben ritrovati allora ripetiamo quest'anno vado veloce anch'io così dobbiamo farci stare tutto ripetiamo anche quest'anno dopo la prima esperienza dell'anno scorso questa giornata offsi in comunicazione sarà la prossima domenica abbiamo invitato tutte le fraternità d'italia a proporre a riproporre questa è la locandina esattamente della 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 manifestazione a riproporre come come anche seguendo un po le le abitudini le condizioni locali quindi tendenzialmente al durante le celebrazioni eucaristiche della domenica ma non non è obbligatorio diciamo seguire un cliché sono di riproporre alla alle persone che vengono incontrate che che hanno la possibilità di entrare in contatto con le nostre fraternità locali di riproporre i nostri strumenti di comunicazione che sono lo ricordo in particolare due la rivista cartacea francesco il volto secolare bimestrale e il la sua versione digitale fws online nella doppia possibilità di di contatto il sito internet e l'applicazione sono i due strumenti che l'offse d'italia si è dato in questi anni per proporre i propri contenuti per proprio raccontare la sua vita per per offrire occasioni di incontro di confronto poi noi diciamo sempre che sono anzitutto dei giornali cioè quindi hanno le dinamiche tipiche dello strumento cerchiamo di non fare prodotti diciamo così di tipo devozionale ma più di suscitare confronto e dibattito anche sui temi di attualità lo facciamo con tutti questi strumenti e domenica li riproponiamo all'attenzione delle persone che le nostre fraternità sul territorio incontreranno a proposito di attenzione non tutti conoscono il vero pregnante significato dell'aggettivo secolare lo vogliamo ricordare allora mi viene facile raccontarla così diciamo una è la vocazione ed è la vocazione a vivere il vangelo molti sono gli strumenti per farlo nel grande fiume della storia del francescanesimo già dall'origine francesco d'assisi immagina un percorso pensato per le persone che vivono in uno stato di laici nello stato laicale nello stato secolare quindi che non sono religiosi diciamo così e quindi che come dire mettono in dialogo l'esperienza vocazionale quindi vivere il vangelo nella accezione nelle modalità di francesco dentro la propria esperienza di vita di laici quindi al nostro tempo nel mondo del lavoro nell'impegno sociale nelle mille sfaccettature che nella famiglia in tutte in tutte le modalità che la vita di un laico conosce e nella quale si declina quindi un'esperienza che condivide la radice con con appunto l'esperienza vocazionale dei frati e delle suore ma che ha uno suo specifico laicale secolare in questo senso quindi dentro il secolo come si usava a dire con un linguaggio un po antico oggi forse si usa un po meno questa espressione viene più semplice dire da laici nella società contemporanea una società che sta vivendo un momento assai complesso e sfidante nel quale il messaggio di francesco diventa più attuale che mai tema della pace si sollecita in modo molto particolare soprattutto di questi in questi tempi noi ne parliamo ne abbiamo parlato soprattutto sul sullo strumento digitale quindi sul sito e sull'applicazione con una molta intensità nei soprattutto nei giorni scorsi ma ancora in questi giorni col crescere della grande preoccupazione relativa soprattutto alla situazione in palestina certo il messaggio di francesco ci dice un modo di affrontare queste cose che mi permetto di dirlo mi pare molto lontano da quello che vediamo come dire affermarsi purtroppo in questi giorni in queste settimane dove dove davvero sembra vincere solo la violenza solo lo strumento della guerra e non intravediamo almeno non sembra di intravedere una scelta più precisa nella direzione della pace e del dialogo c'è la voce del papa che è la che lo ripete di quelli che stanno intorno al papa ricordo anche il custode di terra santa pizzaballa che ripetono questo questo invito con grande forza ma ahimè sono sembrano essere voci forti potenti ma isolate i potenti quelli che hanno per le mani le leve del potere non mi sembra che li stiano ascoltando molto in questo vostro ambito quali sono gli episodi particolarmente significativi che vanno controcorrente o le figure di riferimento che voi additate beh noi abbiamo lo ricordo perché uno degli episodi più delle occasioni più recenti che abbiamo avuto al festival francescano a settembre abbiamo ricordato tonino bello tonino bello che per noi è anche e soprattutto su questo fronte cioè su quello della costruzione quotidiana paziente e coraggiosa della della pace è un punto di riferimento tonino bello francescano secolare e vescovo come sta scritto sulla sulla sua tomba lui è sicuramente una figura di grande importanza e molto conosciuta da tutti ma ce ne sono anche molte altre ci capita spesso di parlare di queste di queste figure ne cito solo uno ma per perché ha a che fare col tema guerra e pace una figura apparentemente minore franzi jegerstetter è un terzario francescano austriaco che sì che si ribellò alla alla costa è una storia meravigliosa poco conosciuta che va che va riproposta perché è proprio una figura di obiettore di coscienza di qualcuno che con la sua vita ha detto di no a un modo di affrontare il conflitto solo con lo strumento della guerra è bello poi davvero rilanciare anche nell'ambito di culture che noi vediamo con un certo pregiudizio queste figure sembra proprio che non ci siano stati in certe epoche in certi contesti dei fiori speciali e invece ci sono sono veramente profumati ma ritornando a noi a voi volevo chiederle qual è la sfida che lancerete domenica la sfida è quella ad abitare il mondo della comunicazione abitare il mondo della comunicazione in particolare quella digitale che è la frontiera più nuova nella quale ci siamo messi ma accompagnandola sempre anche quegli strumenti più tradizionali come la rivista cartacea la sfida è far crescere questi strumenti farli diventare farli essere intanto per la fraternità nazionale uno strumento di collegamento e di crescita di formazione noi diciamo sempre che la lo strumento principale della formazione delle nostre fraternità è esattamente la rivista un tempo si usava a produrre testi di testi libri di formazione eccetera oggi abbiamo da qualche anno abbiamo preferito utilizzare un giornale come strumento offerto alle fraternità locali per fare per costruire i propri percorsi formativi questo ci permette di stare più vicini più attaccati alla alla quotidianità della vita contemporanea quindi questa è la sfida la sfida è farli crescere anche quindi l'invito la giornata si fa anche non abbiamo nessuna vergogna a dirlo per promuovere la possibilità di abbonarsi alla rivista di accedere al sito e all'applicazione far crescere i numeri perché questo ci consente di mantenere di mantenere vivo questa 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 nostra struttura e per continuare ad offrirla certamente all'interno delle fraternità ma con l'ambizione anche di parlare di parlare all'esterno direttore le lancio un'idea perché non producete anche un piccolo magazine così anche per noi può essere prezioso da rilanciare magazine televisivo sarebbe carino sarebbe un'altra frontiera stimolante ci penseremo ci penseremo abbiamo per adesso abbiamo cominciato a esplorare come aggiunta diciamo alla parte digitale per esempio l'universo dei podcast che è un che è una che una nuova frontiera molto molto amata adesso è amata recentemente quindi sulla sul sito sull'applicazione abbiamo cominciato a produrre alcuni pop podcast che tra l'altro stanno avendo anche una certa appunto certo apprezzamento interviste trasformate in podcast insomma ci proviamo ecco con con le nostre con la nostra povertà di mezzi ma cercando di fare il meglio possibile e sì perché il digital è un terreno su cui si può giocare in maniera assai varia come una una scacchiera no ed è importante utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dalla parola scritta al podcast ai video come ci consigliava maria pia perché si può arrivare così ad un numero più importante di persone magari comunicare più facilmente per cui bene ha fatto il direttore anche a sollecitare una maggiore attenzione del nostro pubblico verso il lavoro che stanno svolgendo e che noi continueremo a seguire con interesse ci vuole anticipare qualcosa del prossimo numero abbiamo 30 secondi il numero è in uscita ovviamente siccome bimestrale comprende il periodo natalizio c'è un riferimento al discorso del natale butto lì solo questo ovviamente ma poi ci sono molti altri argomenti tra l'altro il numero è scaricabile anche dal dal sito quindi nel formato digitale quindi immediatamente accessibile per chiunque lo voglia lo voglia fare facendo l'abbonamento si può poi scaricare e leggere comodamente da casa il la rivista anche tramite lo strumento digitale grazie davvero direttore dunque una tiratura in crescita le auguriamo lo speriamo lo speriamo grazie buon buon proseguimento di giornata e buon lavoro noi ci fermiamo soltanto un attimo e ritorniamo subito insieme grazie a tutti